Non si sono mai fermate e non si fermeranno neanche nelle prossime ore, come è stato stanotte, le ricerche di eventuali supersi del naufragio della barca a vela avvenuto a 120 miglia dalla costa da Rocella Ionica nell'area di responsabilità SAR italiana. Sul posto sono presenti due motovedette, una partita da Rocella e l'altra da Reggio Calabria e un aereo ATR 42 decollato dalla base degli aeromobili della Guardia Costiera di Catania, mentre è arrivata durante la notte anche la nave d'attilo dell'unità della Capitaneria di Porto. A bordo del mezzo navale anche i sanitari del CISCOM, il Corpo Italiano del Soccorso dell'Ordine di Malta. Lo ricordiamo ieri erano stati recuperati 12 migranti, il resto tutto disperso in mare. Si parla di 66 persone che potrebbero essere rimasti vittima, tra cui purtroppo vi sarebbero 26 bambini anche di teneretà. I profughi sarebbero partiti otto giorni prima dalle coste della Turchia e per circa quattro giorni la barca a vela su cui viaggiavano avrebbe iniziato ad imbarcare acqua. L'allarme era scattato ieri mattina da un'unità di riporto francese che ha lanciato il Mayday. Dopo qualche ora la Guardia Costiera ha dirottato sul posto due mercantili e poi altre tante motovedette, una delle quali ha trasportato poi i superstiti verso le 10.30 e sono arrivati al porto delle Grazie di Roccella dove, come si vede alle nostre immagini, era pronto una rete di soccorso, diverse ambulanze provenienti dall'ospedale di Locri dal 118 ma anche degli ospedali vicini come quello di Soverato e di Polistena. Al momento sarebbero 11 i ricoverati all'ospedale di Locri, praticamente tutti i superstiti. Purtroppo c'è anche nell'obitorio la donna riportata senza vita, probabilmente morta nel tentativo di salvare la propria bambina dall'annegamento sicuro. Intanto, lo dicevamo, sono giunte durante la notte le due motovedette che erano partite ieri in serata per andare a raccogliere altri sei corpi che erano stati rinvenuti galleggianti adiacenti al luogo in cui si è inabbissata la barca a vela. Il dodicesimo profugo tratto in salvo ieri ora si troverebbe all'ospedale metropolitano di Reggio Calabria. Le sue condizioni sono critiche, sarebbe a rischio di vita. Già da ieri, dopo la notizia dell'annegamento di circa 26 bambini, è partito l'appello dell'Unicef per necessità urgente di un sostegno europeo alle operazioni di ricerca. Bisogna promuovere un più ampio accesso a percorsi sicuri e regolari dell'Unione Europea per le persone migranti e per i rifugiati affinché, dicono dall'Unicef, non siano costrette a rischiare la vita in mare come è capitato in questa occasione.